siamo in piazza san giovanni terminato da pochi da poco pochi minuti sono le ore 14 e 45 il discorso della camusso e il comizio dopo la il corteo qui a roma della cgl lavoro dignità uguaglianza per cambiare l'italia si sta già pulendo provvedendo alla pulizia di questa enorme piazza vedete accolti un milione di persone e già si sta smontando tutto qualcuno ancora rimane qui qualche giovane pullman da ogni parte d'italia ecco vedete lì il palco e si sta pulendo alla piazza san giovanni che vede queste grandi affluenze di persone per comizi importanti non sembra che ci siano stati scontri particolari e quindi roma ha accolto con grande con grande organizzazione questa volta il milione di lavoratori e non in cerca di lavoro anche perché è stato criticato molto il sindacato per il fatto che si occupa più delle persone che già hanno il lavoro piuttosto di quelli che non ce l'hanno e che praticamente tra quelli che non hanno il lavoro sono talmente tanti che si trovano quindi addirittura non tutelati rispetto a chi il lavoro ce l'ha questa è una delle critiche mosse al sindacato ed ecco qui si sta sgombrando la piazza quindi oggi 25 25 ottobre 2014 un 25 ottobre caldissimo estivo estivo quasi vedete tutti in maniche corte un ottobre estivo qui a roma di fine ottobre ormai quasi novembre ancora qualche immagine qui della piazza già si provvede alla pulizia ci sono stati altri due cortei cioè diciamo che sono due i cortei tre tre due di questi sono tre in totale due hanno portato sono confluiti qui a piazza san giovanni mentre il terzo è confluito a piazza santi apostoli vicino a piazza venezia va bene direi che è tutto quindi facciamo uno zoom facciamo uno zoom ragazzi ecco vedete che porta lo standard della cgl le bandiere e il grande pallone va bene tutto da roma 25 ottobre 2014 comizio cgl corteo a roma grazie a tutti